Secondo me più guadagnato per come si era messa la partita perché alla fine tiro libero sul finale ha salvato il nostro portiere Cesare, è stato secondo me sì, punto guadagnato, possiamo dire così. Noi puntiamo in alto, puntiamo ai playoff, andare a fare il campionato nazionale il prossimo anno, vogliamo vincere il più in alto possibile, meglio è, Cilio Vecchio è forte, la prima partita ha vinto contro il Liverpool che anche loro puntano ad arrivare i primi, non ad arrivare i playoff, a vincere proprio il campionato e quindi 3-3 contro una squadra che ha vinto contro il Liverpool, bella partita, puntiamo ai playoff noi. Grazie a Doniero Romano del Santa Maria. Grazie e buona sera.